Ciao a tutti, io e io siamo a Novara, stiamo facendo una passeggiata su via Giovanni XXIII, viale Giovanni XXIII, una parallela del viale Kennedy a ridosso dello stadio, un viale che conduce verso il centro e ci immaginiamo di fare questa passeggiata con voi e con gli amici di viaggiare disabile, sul nostro bel marciapiede che abbiamo preso da una qualsiasi delle rampe che ci sono e ci facciamo la nostra passeggiata fino a giù e questo è il primo gradino di 30 centimetri, poi si riprende, altro bel gradino di 30 centimetri e si va avanti, anche perché anche un disabile ha il diritto di usare il marciapiede, quindi sempre sul marciapiede che abbiamo ripreso, un cestino tra l'alla, altro gradino da 30 centimetri, si attraversa la strada, ipotizzando di non dover passare dall'altra parte e il gradino ancora, quindi abbiamo fatto praticamente un sali e scendi per sei volte per attraversare 20 metri di strada, qualcuno potrebbe anche dire, beh, uno può anche passare dall'altra parte, si uno potrebbe anche passare dall'altra parte, ma se dovesse avere interesse a passare da questa parte, se volesse percorrere il marciapiede su un senso per un qualsiasi motivo, bah, ditemi voi, ciao ne, io saluto, fai ciao